Innanzitutto il bene del paziente, quindi l'abilità, la capacità da parte di chi amministra la cosa pubblica di razionalizzare, quindi di spendere meno laddove è possibile, su quello che è possibile e cercare di investire sulle tecnologie e sull'innovazione. Il fatto delle patite indubbiamente è uno di questi argomenti, farmaci sì costosi, ma che in realtà possono far risparmiare milioni di euro a Regione Lombardia per la diagnosi, cura e trattamento di questi palati, che sono realmente tanti.